Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Free News in apertura del nostro Tg Oggi La Politica. A Ragusa il sindaco Nello Di Pasquale ha varato la nuova squadra assessoriale assegnando le deleghe a ciascuno dei componenti della squadra. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Al via il secondo mandato di Di Pasquale. Il sindaco rieletto ha assegnato le deleghe agli assessori che formeranno la sua nuova squadra. Tra le riconferme c'è Giovanni Cosentini, esponente del PID, che sarà ancora vice sindaco e che assumerà le deleghe ai lavori pubblici, alla pubblica illuminazione e centri storici, alle società miste e partecipate al coordinamento delle politiche comunitarie, al contenzioso, al verde pubblico e all'arredo urbano. Altra riconferme è Francesco Barone del PIDL che si occuperà di sport ed edilizia sportiva, politiche giovanili, gestione dei servizi informatici, deleghe alle quali si aggiungono assistenza e solidarietà, servizio alla persona e recupero sociale, sanità e tutela degli animali, quest'ultimo che erano state ad appannaggio di Rocco Bitetti. Barone perde cultura e beni culturali. Passiamo adesso ai nuovi assessori. Maria Teresa Tumino, di riferimento alla lista Ragusa Grande di Nuovo, ritorna dopo due anni e mezzo ed avrà le deleghe al bilancio e alla programmazione, a provveditorato e all'economato, ai servizi tributari, agli affari patrimoniali e ai contratti. Venerando Suizio, primo degli eletti nella lista di Pasquale Sindaco, ritorna anche lui dopo circa tre anni e si occuperà di politiche del personale, pubblica istruzione ed edilizia scolastica e rapporti con il Consiglio, deleghe di cui già si era occupato. Su una migliore in quanto DC avrà sviluppo economico e politico per l'occupazione, culture e beni culturali, turismo e pari opportunità. Mario Addari è assessore tecnico di riferimento all'area di Nino Minardo nel PDL. Avrà le deleghe alla tutela del territorio e dell'ambiente, servizi ecologici, impianti tecnologici, protezione civile e università. Nino Minardo ha infatti preferito nominare un tecnico per evitare lo scorrimento al primo denone eletti, Mario Chiavola, uomo di Di Pasquale. Il primo cittadino è tenuto per sé le delega alla Polizia Municipale, alla viabilità e al traffico, ai trasporti pubblici, alla sicurezza e all'urbanistica. Altra questione adesso sarà la Presidenza del Consiglio con il PDL che vorrebbe proporre Michele Tasca, consigliere di grande esperienza, mentre il Sindaco preferirebbe un suo uomo, ovvero Pino Di Noia. Vedremo alla fine chi la spunterà. Il Sindaco di Ragusa, Anello Di Pasquale, ha convocato per domani mattina alle 8.30 la prima riunione della Giunta Municipale. Come preannunciato dallo stesso primo cittadino, il primo atto che sarà approvato sarà la delibera con la quale si esprime il parere contrario dell'amministrazione comunale all'installazione di centrali nucleari nel territorio comunale. E ci spostiamo adesso a Vittoria dove torna il sole tra le fila dei candidati a primo cittadino della città. La bufera che ha visto coinvolti Nicosia in Cardone Aiello sembra placarsi man mano che si avvicina il ballottaggio. A riportare la pace nel centro-destra ci hanno pensato Leontini e Minardo pronti a continuare la battaglia a fianco di in Cardone. Vediamo. Aria di pace stamani a Vittoria in vista del ballottaggio che si terrà il prossimo weekend. La quiete dopo la tempesta scatenata dalle dichiarazioni di Fabrizio Comisi che sembra siano arrivate sulle social network Facebook sulla sua non condivisione dell'apparentamento Aiello in Cardona. E lì chi più ne ha più ne metta. A riportare la pace ci hanno pensato Nino Minardo e Innocenzo Leontini. La smentita è arrivata un po' in ritardo ma è arrivata. Leontini, Comisi e Minardo a cercare di riportare la calma dopo il terremoto politico. Una smentita a quattro mani che ha messo alla luce come le assenze di Leontini e Comisi sia alla conferenza stampa che al comizio della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Carmelo in Cardona sarebbero del tutto casuali, date da impegni personali e per nulla riconducibili ad un mancato consenso con le scelte dello stesso candidato a sindaco. Leontini e Comisi hanno inoltre ribadito la massima lealtà e il più convinto e diffuso consenso nei confronti di in Cardona ed hanno aggiunto che il prosieguo della campagna elettorale vedrà Comisi e tutti i consiglieri e candidati della lista PDL riconducibili alla medesima posizione impegnati a fianco dell'onorevole in Cardona per il suo sicuro successo nell'interesse della città. E sul fronte Nicosia Italia dei Valori continua ad appoggiare il candidato a primo cittadino mentre il riconteggio delle schede da parte della commissione competente ha rivoluzionato le posizioni dei primi classificati nella lista del PDL. 9 voti in più a Francesco Trama rispetto ai 193 già ottenuti che gli permettono di piazzarsi al quarto posto quinto Paolo Nativo con 202 preferenze. E restiamo ancora a Vittoria. Se tra le fila del centro-destra la situazione sembra essere tornata alla normalità non si può dire lo stesso per i rapporti tra il movimento Aiello Sindaco che ha da qualche giorno definito l'apparentamento con il candidato a sindaco Carmelo Incardò, Giuseppe Nicolidi Aiello L'Unvoto è un municipale sinato nei confronti di quella che ha definito una campagna elettorale diffamatoria. Sentiamo uno stralcio dell'intervista da Aiello e Nicosia che nelle prossime edizioni vi riproporremo in versione integrale. Vediamo. Noi abbiamo valutato che questa amministrazione non solo sia stata incompetente e distruttiva ma sia un grumo di interessi affaristici che hanno devastato il comune, il territorio e ora si stanno attrezzando per l'assalto finale. Aiello ormai è un diffamatore di professione. Purtroppo è brutto che la politica di Vittoria, una parte della politica, quella di destra scenda a questi livelli ma è sotto gli occhi di tutti che Aiello lo alimenta ormai solo un furore odioso nei miei confronti, non ha nulla di politico. E restiamo a Vittoria dove il sindaco Giuseppe Nicosia ha sollecitato un'interrogazione del parlamentare europeo Rosario Crocetta per la difesa dell'ortofrutta locale rispetto alla chiusura delle esportazioni legata al batterio killer per un intervento forte e urgente. Dobbiamo lottare, ha affermato Nicosia sin da subito, per far sapere a tutti che i nostri prodotti sono salubri e puliti e per ottenere indennizi e aiuti per il calo delle vendite che si sta registrando nel settore. Domenica e lunedì i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi per quattro referendum abrogativi che riguarderanno la privatizzazione dei servizi di gestione dell'acqua, il nucleare e il legittimo impedimento. Ma sentiamo in questo servizio le ragioni del sì e quelle del no. Il 12 e il 13 giugno prossimi i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi su alcuni quesiti strettamente collegati a norme di legge statali. In particolare si chiede alla cittadinanza di pronunciarsi sull'abrogazione o meno dell'articolo 23 bis della legge di riforma sui servizi pubblici locali nella parte riguardante la gestione privatistica del servizio idrico, le norme sul nucleare modificate dal decreto legge numero 34 2011 convertito in legge 75 2011 e sulla norma che consente al Presidente del Consiglio e ai ministri a non comparire in un'udienza penale in caso di legittimo impedimento. Si tratta di referendum abrogativo, cioè si vota per eliminare in tutto e in parte le norme. Il referendum sarà valido solo nel caso in cui alle urne si regherà il 50% più uno degli eventi diritti al voto. Le schede saranno in tutto 4, due delle quali faranno riferimento alla privatizzazione dei servizi idrici. Chi voterà sì si pronuncerà contro la privatizzazione di questi servizi, perché i costi di gestione potrebbero aumentare a dismisura, rischiando la speculazione su un bene comune e sempre più prezioso come l'acqua. Chi voterà no invece ritiene che le società private possano gestire il sistema idrico, le quali si occuperebbero di migliorare il sistema evitando spieghi perdite e controllando la purezza dell'acqua in maniera ottimale. Per quanto concerne il quesito referendare sul nucleare, chi vota sì non vuole le centrali nucleari nel territorio italiano, mentre chi vota no non esclude in futuro la possibilità di costruire centrali nucleari che potrebbero contribuire a rendere l'Italia più autonoma nella produzione di energia. Infine il legittimo impedimento che consente al Presidente del Consiglio e ai Ministri di non comparire in udienza penale durante il loro mandato. E passiamo adesso alla cronaca. Incendio a Modica e i danni di una pescheria di via resistenza partigiana. Le fiamme hanno ennerito la facciata e la saracinesca senza provocare per fortuna danni ingenti. I vigili del fuoco allertati da alcuni automobilisti sono intervenuti in maniera tempestiva. Il rogo sembra di natura dolosa visto il ritrovamento sul luogo di una bottiglia di plastica e di tracce di benzina. La pescheria non è stata danneggiata all'interno e le fiamme non hanno provocato danni a persone alle case vicine o alle auto in sosta. Noi ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria tra poco.